Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, siamo con una mappa Turbulence, sono da solo 6 ma in realtà eravamo in 10, non l'ho fatto tutti, va bene buono così avremo più possibilità di vincere, andiamo a sud io direi di prendere un po' di ceste qua e sperare di avere qualcosa di nuovo ti ricordate quando avevo fatto quella partita che avevo vinto, siamo in 5, ok che avevo vinto in 30 secondi, epico però mi sa che me l'hanno cancellata perché come sapete dal canale mi hanno cancellato un po' muori, muorici, 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 questo qua c'è roba, c'è roba, c'è roba, c'è roba ok, complimenti Ed, e sei l'unico coglione che non c'è niente ecco questa è la mia strategia, bravo Ed, mamma mia che idiota nessuno in realtà qua è libera perché questo qua non ha aperto niente facciamo la, la cooked chicken qua andiamo a sud dai dai forza, forza che, forza coraggio che abbiamo ancora tempo io non so se sono andati nel mio chest root comunque c'è della roba a sud si può sfruttare sono andati là, siamo fottuti però potrebbero anche non essere andati, siamo in cinque alla fine, comunque non è che, non sembrano esserci gente qua questa qua è ancora libera si, buono ok, siamo abbastanza fullati adesso andiamo a prendere l'altro di due che c'è qua ci sono diverse tra l'altro qua però dai, 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 forza, 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 forza qua lì in fondo, uh, 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 c'è, ci sono due qua stanno combattendo? lol l'altro lo ha cleanappato malissimo ma sta laggando uh, 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 no, 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 c'è, c'è, c'è questo qua c'è questo qua non mi prendere con le frecce, non mi prendere con le frecce anzi, prendi le frecce, non mi prendere con le frecce ho detto che non mi prendi non è questo, è quella è quella laggiù ok, ok prendiamo la T2 qua, così ci corazziamo abbastanza bene freccia, vai vai, 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 vai ok, 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 ok buona, bravo, Ed, bravo, Ed, buona battaglia non venite a cleanappare bastardi eh, andiamo a fare subito la, 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 le frecce non ho né no, non ho stick non ho stick c'è questo qua però devi morire devi morire laggi no, bastardo, come se ne va no, non te ne devi andare non te ne devi andare cazzo, io ho mangiato la gheppo l'ho sprecata no dai niente, gli ho tolto un po' di cuori, forse uh, non ho preso niente, ok allora, c'è sud e c'è quello non ho ca- ma che axi tu che stai laggando imbecille quanto sono i tardi quanto sono i tardi ecco e mori, mamma mia ok, abbiamo vinto sta partita bravo, Ed insomma, in 5 non è il massimo della vita niente, è una partita easy tra l'altro potrei anche caricarla la carichiamo così proprio una partita leggera, leggera che la carico prima questa e poi ne carico una che ho fatto carichettato prima in cui parleremo di hacker e farò un discorso con Zetalex se sono e farò un discorso abbastanza intelligente sugli hacker, direi e quindi niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti